Altro match a porte chiuse allo stadio Vincenzo Presti per il Gela Football Club. I ragazzi di Mister Catania dopo l'umiliante sconfitta contro Carlentini con il risultato finale di 6-0, domani affronteranno la formazione del Città Sant'Agata, la vice capolista del torneo di eccellenza Girone B. Il tecnico gelese ha recuperato gran parte dei giocatori e domani metterà in campo i migliori undici anche perché se vogliono continuare a mantenere contatti con la zona playoff i giallaneri non possono permettere di fare palsi falsi. Fischio d'inizio della gara domani alle 15. In seconda categoria turno in trasferta per il Gela che domani alle 15 farà visita alla nuova Petiliana. L'obiettivo per gli uomini di Mirko Faustiano è quello di conquistare tre punti per non perdere contatto dalla Sommatinese e dalla Don Bosco Mussumeli rispettivamente prima e seconda della classe. Sicuramente non saranno della gara Costarelli stagione conclusa e Spadaro a causa di infortunio. Nel torneo di terza categoria il Gela ospiterà domani alle 15 al Matteo di Macchitella la Buterese e Biancazzurri in piena zona promozione a quota 22 punti. turno in trasferta per la Cus e Schilo Unipaegas domani alle 15 a Pergusa contro la Lago Real. Turno casalingo per la Melfast Basket domani alle 18 alla Palestra Itis il quindetto di Bernardo sfiderà la Virtus Ragusa. Gelesi tornano in campo dopo il match sospeso dell'ultimo turno sul parquet di Barcellona Pozzo di Gotto di fronte alla vice capolista del torneo di Serie C Silver. Obiettivo minimo per i Gelesi è quello di conquistare la massima posta in palio per dare una scossa alla classifica che vede Biancorossi al decimo posto a quota 12 punti. Match alla palestra Itis stasera alle 19.30 per il Vole Gela contro il Mister Bianco. La squadra Etnea è il fanalino di coda della classifica del torneo di Serie C di pallavolo femminile a quota 2 punti. Gelesi al penultimo posto a quota 5. Nel campionato di Serie C2 di calcio 5 il Futsal Gela stasera alle 17 alla Palestra Itis affronterà l'atletico Campobello. Biancorossi in piena lotta per la vetta della classifica che dista di soli 4 lunghezze.